Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Sono stati resi noti nelle scorse ore i risultati dell'esame del DNA effettuato sui resti ossei trovati lo scorso gennaio in via della chimica a Marghera. Stando a quanto emerso la vittima era un uomo di piccola statura, un dato che ha permesso di scartare entrambe le ipotesi avanzate dalla polizia all'epoca del ritrovamento. Per alcuni mesi infatti si era pensato che i resti potessero appartenere a Isabella Noventa, la donna scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 a Padova, o a Florina Simeone, collaboratrice scolastica 25enne di Cazzago di Pianiga, scomparsa il 26 febbraio dello stesso anno. Accanto ai reperti ossei erano stati ritrovati anche una scarpa sportiva della marca statunitense DWS con parti dell'osso del piede ancora all'interno e un orologio nero. Devono essere rimasti lì per circa 6 o 8 anni, durante i quali erano stati ricoperti da erba alta e rovi insormontabili che ne avrebbero reso impossibile il ritrovamento a chiunque. Se non che, la società incaricata dal comune di pulire l'aria nell'eseguire le procedure era involontariamente riuscita a farli venire alla luce. Il collegamento tra i resti ossei ritrovati e Isabella Noventa si erano basati sui dati dei tabulati telefonici. All'epoca della scomparsa della donna, grazie alle indagini della squadra mobile di Padova guidata in quegli anni dal comandante Giorgio Di Munno, attualmente a capo della mobile di Venezia, si era visto come il telefono disorgato il giorno successivo alla scomparsa di Isabella avesse agganciato i ripetitori a Marghera, proprio in via Bottenigo, che dista solo pochi metri dalla rotonda di via della Chimica. Ora si cercherà di identificare l'uomo, anche se le piste al vaglio degli investigatori restano tuttora sconosciute. Sono passati invece solo tre giorni dal suicidio al Santa Maria Maggiore di Bassem de Gacci, il detenuto in regime di semilibertà con la prospettiva di un affidamento ai servizi sociali a settembre. Dopo l'appello della moglie Silvia e della cognata Elisa, che chiedono che venga fatta giustizia, il sindacato di Polizia Penitenziaria ha deciso di organizzare un tour per le carceri del Nord Italia. Raccoglieremo direttamente dal personale penitenziario le maggiori problematicità in modo tale da aggiornare la mappa delle emergenze, fa sapere il segretario generale Aldo Di Giacomo, che ieri ha visitato il carcere di Aosta e proseguirà nei prossimi giorni con una serie di sopralluoghi nelle principali case di reclusione dell'Emilia Romagna, della Val d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e del Frivuli Venezia Giulia. Quella dei suicidi, ha poi sottolineato Di Giacomo, è senza dubbio una questione che nelle carceri del Nord ha aspetti particolari anche per la presenza di tossicodipendenti e per il grande sovraffollamento. Martedì mattina, dopo che Silvia Padoan, moglie di Degaci, aveva ricevuto dal marito una prima telefonata agitata e poi una seconda, disperata, verso le 10, aveva tentato di dare l'allarme alla portineria del carcere, chiedendo che andassero a controllare le condizioni del marito perché aveva minacciato di togliersi la vita. Come la donna ha raccontato agli agenti, le chiamate di Bassem erano state diverse, a cui erano seguite altre quattro fatte dalla moglie al carcere per avvisare che qualcosa non andava. L'ultima telefonata fra i conogi è avvenuta circa alle 12.30. Due ore dopo, alle 14.21, Silvia aveva chiamato la portineria. Un solo minuto dopo, alle 14.22, è stato certificato il decesso di Bassem. Poteva essere salvato, vogliamo giustizia. È stato pagato uno sbaglio con la vita di un uomo. Una tragedia simile non deve succedere mai più a nessun altro. Hanno dichiarato Silvia Padona e Elisa Poletto. La procura sul caso ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. La misura del carcere che ha raggiunto Bassem e altre dieci persone dopo la maxioperazione dei carabinieri di Mestre era stata chiesta nel maggio del 2020, ma a causa della carenza di magistrati era rimasta ferma per due anni. Nel frattempo, De Gaci aveva acquistato la semilibertà e aveva trovato un lavoro alla remiera di Sant'Alvise. Voltiamo per ora pagina per parlare del nuovo speciale cestino in grado di catturare i rifiuti galleggianti in acqua. Si chiama Sea Bean ed è operativo da alcuni giorni nella laguna di Venezia. È stato realizzato grazie all'iniziativa della società Saipem e del progetto LifeGate Plastic Less. Nello specifico si tratta di un dispositivo dotato di un sistema di filtraggio che raccoglie rifiuti galleggianti nelle acque portuali a ridosso dei punti di accumulo, ovvero nelle insenature dove vengono maggiormente sospinti da venti e correnti, e che riesce a catturare in particolare rifiuti di medie e piccole dimensioni, incluse plastiche, microplastiche, microfibre, contribuendo così a ridurre l'inquinamento in mare. La scelta di adottare il Sea Bean è un gesto simbolico con il quale Saipem si impegna a promuovere soluzioni concrete per preservare l'ecosistema marino. Restiamo a Venezia, dove l'Università Uav ha avviato un progetto per lo sviluppo di idee nell'ambito del vetro di Murano, a partire dalla sua storia, dai processi di produzione e di riciclo. Si chiama Cluster Class. Il suo obiettivo è quello di mettere in connessione la ricerca e la formazione con il territorio, con particolare attenzione al dialogo con le realtà produttive e il coinvolgimento di giovani talenti. Le nuove generazioni sono i professionisti di domani, spiegano dall'Ateneo. A loro sta il compito di crescere il futuro del comparto del vetro veneto e lo sviluppo di innovazioni e prodotti. Ad affiancare le responsabili del Cluster di studio e ricerca, le docenti Maria Antonia Barucco e Rosa Chiesa, un gruppo di docenti Uav di vari settori disciplinari, oltre ad alcuni colleghi di Ca' Foscari dell'Università di Roma 3, nonché dell'Università della Virginia negli Stati Uniti e di Melbourne in Australia. Il Cluster lavora per comunicare a un pubblico ampio il valore del comparto produttivo che opera con e per il vetro e per supportare la capacità innovativa delle idee di ricercatori e vetrai in un'ottica di sviluppo di nuove professionalità e competenze. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi e concludiamo come di consueto con lo sport, nello specifico sport all'aperto e aree verdi più vivibili. Sono questi infatti gli obiettivi alla base della realizzazione delle nuove aree fitness sul territorio comunale veneziano. L'ultima nata è stata inaugurata ieri sera all'interno dei giardini di Sant'Elena. Al taglio del nastro erano presenti il vice sindaco con delega allo sport Andrea Tomaello, la responsabile del settore Grazia Trentin, il consigliere delegato del sindaco ai rapporti con le isole Alessandro Scarpa Marta, il consigliere comunale Nicola Gervasutti e il presidente e vicepresidente della municipalità di Venezia Murano Burano Marco Borghi. Questa nuova struttura va ad aggiungersi a quelle già aperte nel mese di aprile a Lido e al parco Catene di Marghera, ha dichiarato Tomaello che aggiunge il progetto è stato avviato due anni fa con la realizzazione della prima palestra inclusiva all'aperto al parco albanese di Mestre. Ricordo che tutte e quattro le aree sono state finanziate in toto con i fondi React EU per un investimento complessivo di 105 mila euro. Nel corso della cerimonia il vice sindaco Tomaello ha poi annunciato che entro la fine dell'anno è prevista l'apertura di altre aree fitness equamente distribuite su tutto il territorio comunale tra Venezia, Mestre e Marghera e che saranno sempre finanziate dai fondi React EU. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie.